Sandro Tonali, acquisto importante da Nino Castle, preso dal Milan, ha ammesso di essere utopatico, ha ammesso di aver scommesso centinaia di migliaia di euro in siti legali ed illegali e ha accettato di iniziare un percorso indicato dai suoi cari per curare questa grave patologia. Indubbiamente questi giocatori che hanno fatto questo illecito, questa grave cosa, saranno puniti con delle sanzioni, si rischia la scolifica fino a tre anni, ma sicuramente si andrà, per quanto riguarda la giustizia sportiva, ad un patteggiamento per cui le pene saranno ridotte, in base a quello che ho letto, in base a quello che si vocifera sul web. Naturalmente bisogna capire poi nel dettaglio, come questi saranno gli organi competenti a farlo, per quanto tempo ne scommettevano, come se, come ha detto Corona, la Juve era consapevole che Fagioli scommetteva e voleva insabbiare la cosa, bisogna vedere tante, 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 tante cose. Voi ragazzi continuate a seguirmi per non perdervi le news di questa faccenda, perché ha veramente scosso il mondo del calcio e secondo me potrebbe nascere una nuova calciopoli scommessa. Rimanete connessi.